Buonasera a tutti, buonasera, grazie per essere venuti, io sono Eleonora Tafura Ambrosetti, lavoro come ricercatrice qui in ISPI nell'area Russia-Caucas-Asia Centrale e sono la coautrice del rapporto che presentiamo stasera insieme al professor Ferrari. Quando abbiamo concepito questo evento l'abbiamo concepito in occasione della pubblicazione del rapporto, però in realtà guardando all'attualità gli spunti per parlare della crescente cooperazione sino-russa in molti ambiti non mancano, dalle dichiarazioni del presidente cinese, dopo il forum economico di San Pietroburgo quando il presidente cinese ha affermato che Putin è il mio migliore amico, alla crescente cooperazione in ambito energetico con il forum energetico tra Cina e Russia, ma anche alla cooperazione politica in seno alle Nazioni Unite, abbiamo visto la recente decisione di Cina e Russia di bloccare una mozione di condanna al Sudan, vediamo che appunto gli spunti per discutere di questo tema non mancano e a discuterne con noi questa sera ci saranno esperti di Cina e di Russia, ad iniziare dal professor Aldo Ferrari che come vi dicevo è il coautore di questo rapporto, è il professore associato all'università Ca' Foscari, è il professore di lingua e cultura almena, storia del Caucaso e dell'Asia centrale e storia della cultura Russia, ma il professor Ferrari è anche il direttore dell'area Russia qui in Ispi e abbiamo anche Giulia Pompili, giornalista del Foglio che si occupa di Asia più in generale. A loro chiederò di fare un intervento breve per lasciare spazio anche alle vostre domande, quindi insomma vi incoraggio anche a fare delle domande al termine della sessione. Inizierei con il professor Ferrari. Buonasera, grazie per essere venuti a questo incontro che è credo piuttosto importante, io credo che nell'attività dell'area Russia-Caucaso centrale di quest'anno sia l'incontro più importante perché il tema che affrontiamo, quello del rapporto Russia-Cina, naturalmente avendo presente che questo rapporto si colloca contro l'Occidente o perlomeno in una situazione di crescente allontanamento dall'Occidente, almeno per quel che riguarda la Russia, è evidentemente un tema di grande interesse che solo di recente comincia ad essere affrontato e studiato quanto dovrebbe essere, visto la rilevanza dei due attori coinvolti. Allora, noi abbiamo pubblicato qualche mese fa questo rapporto, lo faccio vedere nella forma cartacea, ma è raggiungibile, scaricabile gratuitamente sul sito dell'ISPI e questo rapporto contiene alcuni interventi su vari aspetti del rapporto Russia-Cina, ma questo rapporto naturalmente va visto all'interno della situazione che si è creata negli equilibri internazionali da qualche anno e che sostanzialmente sta modificando quello che sembrava essere il nuovo ordine mondiale sorto alla fine della guerra fredda con la dissoluzione dell'URSS nel 1991. Ci ricordiamo tutti, non vedo molti giovani, ma anche chi ha la fortuna di essere giovani è una cosa che avrà studiato, dopo la fine dell'URSS è crollato il mondo bipolare, che per decenni era stato il nostro mondo, ci piacesse o non ci piacesse, e sembrava ne fosse sorto un altro essenzialmente dominato dai valori politici, economici, culturali dell'Uccidente e guidato dagli Stati Uniti. Anche questa prospettiva piaceva ad alcuni, non piaceva ad altri, ma sembrava un dato di fatto incontrovertibile creatosi appunto alla fine della guerra fredda. Cosa è rimasto dopo neanche trent'anni di quello scenario? Qualcosa è rimasto, gli Stati Uniti sono ancora di gran lunga la potenza più forte, ma il nuovo ordine mondiale unilaterale a guida statunitense sembra sempre di più essere sfidato da altri attori, i principali dei quali sono senz'altro la Russia e la Cina, in due maniere molto molto differenti. È venuto meno sostanzialmente un ordine che potesse essere fondato su un unico attore geopolitico e su un unico pacchetto, su un unico quadro valoriale, quello occidentale, e la situazione sempre più rapidamente negli ultimi anni è cambiata. È cambiata soprattutto perché si sono verificati a livello geopolitico due cambiamenti fondamentali convergenti, almeno in parte, ma molto diversi tra di loro. La Russia, in primo luogo enormemente indebolita dopo la crisi e il crollo dell'URSS, ha ereditato parte della potenza dell'antica URSS, ma sicuramente è assai meno forte di quanto non fosse in epoca sovietica, ha conosciuto nei primi dieci anni post-sovietici una crisi terribile dalla quale in parte, ma solo in parte, si è ripresa a partire dal 2000 grosso modo, ma ha cominciato già da quegli anni a impostare una propria politica estera, una propria visione delle relazioni internazionali in assoluta contrapposizione all'Occidente. Già alla fine degli anni 90, quando la Russia era estremamente debole, un personaggio molto importante, il suo entourage, mi riferisco a Primakov, ha per la prima volta sfidato apertamente l'idea che il mondo post-bipolare dovesse essere unipolare a guida statunitense. L'affermazione di Primakov della necessità di ricreare invece un mondo multipolare è stata solo enunciata in Russia alla fine degli anni 90, ma con la ripresa economica e politica sotto Putin dai primi anni del XXI secolo, la Russia ha potuto non solo enunciare una opposizione a questo nuovo ordine mondiale a guida statunitense, ma anche, almeno in parte, una contrapposizione reale. Ha enunciato un nuovo progetto di ordine multipolare al quale ha cercato, sta cercando di dare sostanza, come sappiamo però, fallendo, se non completamente, almeno in larga misura, nella dimensione economica. La Russia si muove in maniera discutibile, ma abile, nello scenario geopolitico, dimostra sempre una velocità di azione o reazione notevole, sicuramente maggiore, dei suoi antagonisti o partner, talvolta, occidentali, ma sicuramente dal punto di vista economico è estremamente debole. Sappiamo invece che l'altro paese che, in maniera diversa, ma concorre con la Russia nello sfidare l'ordine mondiale a guida statunitense e la Cina, ha invece conosciuto negli ultimi decenni uno sviluppo economico straordinario, assolutamente non comparabile con quello russo che è molto, molto più modesto, e quindi sta portando una sfida diversa al predominio occidentale barra statunitense, che al momento è essenzialmente di carattere economico, laddove la Russia lo fa soprattutto nella sfera geopolitica. I due paesi sono per molti aspetti convergenti, ma, e chi parlerà dopo di me lo spiegherà sicuramente bene, i rispettivi interessi non coincidono, ne potranno mai coincidere. Estremamente diversi sono i paesi, estremamente diverse le dinamiche interne, a partire da quelle demografiche e evidentemente economiche, ma per alcuni aspetti la collaborazione tra i due paesi è reale. Stanno concorrendo a delineare un mondo che non è più quello che noi occidentali ci aspettavamo una trentina di anni fa, ma che ancora deve essere disegnato. Alcune linee di questo nuovo ordine che si sta costituendo sono evidenziate nella sfera geopolitica, nella sfera valoriale, almeno in parte, ma credo che poi altri parleranno più di questo aspetto, c'è una convergenza, una sfida all'ordine valoriale occidentale, liberale, portata diversamente dai paesi, ma portata avanti negli ultimi anni sempre di più. C'è una collaborazione strategica che l'anno scorso è stata simboleggiata da questa manovra Vastok in Russo Oriente, una manovra militare veramente di dimensioni notevoli e con un nome evidentemente significativo. Ci sono poi le varie collaborazioni, stiamo in questi giorni parlando molto del Vertice SCO, della Shanghai Cooperation Organization che nonostante le sue debolezze è un'organizzazione estremamente significativa nella sfera politica e di collaborazione e di sicurezza. Sicuramente Russia e Cina stanno lavorando in parte insieme con molti problemi e molte difficoltà per cambiare il mondo al quale ci stavamo abituando un po' troppo pigramente dopo la fine dell'URSS. Le modalità di questa collaborazione e soprattutto i frutti dei prossimi anni di questa collaborazione sono ancora difficili da definire, da prevedere, molto rimane oscuro e incerto ma credo che sicuramente chi parlerà dopo di me potrà dare delle indicazioni soprattutto nella sfera economica, giuridica e valoriale. Grazie per l'attenzione. Grazie mille professor Ferrari per questo inquadramento del tema eccellente. Io chiederei a Giulia invece Pompili di darci non solo la prospettiva cinese ma anche una panoramica di come questa crescente convergenza politico-economica e di sicurezza viene vista dagli altri attori più importanti nella regione asiatica. Grazie mille. Grazie sì, anzitutto grazie a voi proprio per l'approccio un po' più giornalistico diciamo così della lettura del report appena pubblicato da ISPI. Io inizierei parlando proprio della tempestività perché già ad aprile Putin è stato in visita a Pechino ma nei giorni in cui è stato pubblicato il report di ISPI, Xi Jinping ha fatto questa visita molto celebrata in Russia e devo dire che sono già anni che i giornalisti media seguono la grande storia d'amore che c'è in questo periodo tra Putin e Xi e devo dire che rispetto alla visita di Putin a Pechino quest'ultima di Xi in Russia è stata molto più enfatizzata mediaticamente. Questo che cosa significa? Siccome sappiamo che soprattutto in Asia orientale ogni cosa diplomatica è simbolica, per esempio il fatto che Xi abbia portato i due panda in dono alla Russia ha un significato ben preciso politicamente anche, non è solamente uno scambio di gentilezze come la torta di compleanno che ha fatto Putin a Xi Jinping. Da una parte c'è un obiettivo di propaganda esterna cioè al resto del mondo, noi abbiamo degli interessi comuni e ci fidiamo molto l'uno dell'altro e quindi formiamo un blocco forte e difficilmente contrastabile. Naturalmente non ci sono stati solo i panda e le torte di compleanno perché Xi Jinping ha dato un altro segnale forte portando in dote anche la commessa di Huawei, il colosso cinese di telecomunicazioni che si occuperà della costruzione del 5G, l'infrastruttura strategica che ci cambierà la vita probabilmente ma di cui ancora poco sappiamo, Huawei si occuperà della costruzione del 5G in Russia che è un altro messaggio, nel momento in cui gli Stati Uniti ci dicono non potete costruire il 5G con le tecnologie cinesi perché ci spiano, la Russia si fida totalmente e decide di affidarsi a Huawei. Oggi tra l'altro il fondatore e il direttore ha detto che si aspettano per il prossimo biennio una perdita di 30 miliardi di dollari per l'azienda data dal boicottaggio perché potremmo chiamarlo così, comunque dalla frenata che l'America ha fatto e che ha imposta cercando di imporre a tutti i partner commerciali contro Huawei proprio. Devo dire che ogni volta che poi mi metto a pensare alle questioni convergenti tra Russia e Cina mi viene sempre in mente questo libro di Harrison Salisbury che era il vecchio corrispondente da Mosca del New York Times che poi casualmente si trovò anche nell'89 a piazza Tiananmen di cui abbiamo celebrato appunto i 30 anni poco tempo fa. Salisbury a metà degli anni 70 ha pubblicato, tradotto in italiano da Einaudi un volume che si chiamava così, il cui titolo recitava La prossima guerra tra Russia e Cina, 300 milioni di morti cinesi nei primi dieci giorni guerriglia oltranza sconfitta russa questo era il titolo, insomma prima i reportaggi si facevano così era il titolo di questo libro in cui Salisbury parlava proprio di una possibile imminente guerra tra Cina e Russia e addirittura spiegava dettagliatamente adesso per fare proprio una sinostra molto breve, diceva che parlando con i cinesi per i cinesi la minaccia russa era molto più imminente di quella americana cioè alla fine degli anni 60 addirittura in Cina i russi erano più nemici degli americani e questo è interessante perché poi dopo poco tutto è cambiato cioè si è proprio rivoluzionata la politica estera soprattutto perché sembra che insomma non ci sia convergenza solamente dal punto di vista commerciale cioè sappiamo che la Cina ovviamente come diceva il professore prima è molto più forte economicamente della Russia e quindi sta aiutando la Russia in qualche modo anche commercialmente fare il 5G non è un'operazione particolarmente economica ma i due paesi si aiutano anche e soprattutto nel supportarsi dal punto di vista delle decisioni di politica estera e questo è molto interessante perché in Asia orientale parliamo di Venezuela, di Iran ovviamente le intenzioni di Mosca e Pechino quando andiamo al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite quasi sempre sono le stesse di fronte a questo disegno uno dei pochi che ha riuscito a trovare una strategia per sfruttare l'occasione è stato il primo ministro giapponese Shinzo Abe che dopo anni di rincorsa dei democratici in America improvvisamente come molti di noi si è sbagliato ha puntato sul cavallo sbagliato era andato a fare molte così visite a Hillary Clinton e nel 2016 si è ritrovato con Donald Trump alla Casa Bianca insomma ha cercato di ricostruire tra il 2016 e il 2017 un rapporto con Donald Trump con tutte le difficoltà diplomatiche del caso ovviamente ci è riuscito in qualche modo perché Trump ha un'ottima opinione di Abe almeno così dicono i report e che cosa ha fatto però Abe? ha capito che dell'America non poteva più fidarsi perché nel momento in cui parlava di grandi questioni strategiche con Donald Trump quello gli diceva sempre sì ma vogliamo delle tariffe sulle auto e lui insomma preoccupato da questa cosa ha cominciato a rivolgersi altrove e ovviamente in Asia orientale quando ti rivolgi a qualcun altro è ovviamente la Cina il tuo principale interlocutore quindi Abe ha cambiato strategia e fino all'anno scorso se voi chiedevate a qualunque funzionario del ministero degli esseri giapponese vi avrebbe detto che il problema dell'Asia orientale della stabilità dell'Asia orientale era l'assertività cinese improvvisamente la questione è completamente cambiata cioè i problemi non sono più cinesi in questo tentativo di riequilibrare il suo rapporto con la Cina e con Xi Jinping ovviamente c'entra anche la Russia perché uno dei problemi più forti e più sentiti dall'opinione pubblica giapponese è quella dei territori del nord che è una questione che va avanti sin dal dopoguerra sono delle isole nell'estremità settentrionale del Giappone che dopo la guerra erano state date in gestione diciamo così ai russi e che il Giappone rivendica come sappiamo in Asia le questioni territoriali sono fondamentali per la diplomazia e per la politica estera le isole Kurili le isole Kurili che i giapponesi chiamano territori del nord alla fine di questo riposizionamento si è arrivati quasi a un accordo a un trattato di pace tra il Giappone e la Russia e insomma una sistemazione della questione tra Abe e Putin che sembrava impossibile invece l'apertura alla Cina ha cascata ha dato modo ad Abe di avere un canale privilegiato anche con la Russia ovviamente come cita il capitolo del report sull'asse asimmetrico tra Russia e Cina si sono intensificate anche in Asia orientale le esercitazioni navali per esempio tra Russia e Cina e già dal 2012 il Giappone controlla le esercitazioni navali che la Russia sta facendo nel mar cinese meridionale questo ha portato anche un riposizionamento della Russia nelle Filippine sapete che le Filippine hanno vinto la causa nel 2016 l'arbitrato internazionale perché la Cina rivendicava gran parte del mar cinese meridionale alcune isole sono di territorialità filippina e la Cina le rivendicava effettivamente l'arbitrato internazionale dopo che le Filippine hanno fatto causa si sono rivolte al tribunale internazionale ha dato ragione alle Filippine contestualmente nel 2016 è stato eletto Rodrigo Duterte un uomo forte molto simile caratterialmente a Putin e a Xi Jinping e che cosa è successo? Duterte è salito al potere l'area nelle Filippine ha detto ok sì dell'arbitrato a noi comunque ci importa poco perché vogliamo un contatto diretto con Xi e con chi rivendica l'area e effettivamente Russia e Cina portano avanti esercitazioni militari in tutta l'area delle Spratly tutta l'area rivendicata dalla linea dei nove punti cinese la Russia e le navi da guerra russe hanno libero accesso a quell'area e le navi da guerra russe attraccano spesso credo sia almeno due volte che fanno queste operazioni di freedom of navigation e poi attraccano nei porti di Manila proprio per dimostrare quanto l'amicizia si stia diffondendo e quanto sia fluido questo poi riposizionamento di tutti sei amico della Cina sei anche amico della Russia un'altra questione fondamentale poi chiudo si è la Cora del Nord oggi è stata annunciata la visita di Xi Jinping a Pyongyang anche lì Russia e Cina sono state sempre alla stessa maniera nella stessa direzione cioè basta sanzioni allentiamo le sanzioni facciamo aprire la Cora del Nord e vedrete che non è un caso che le uniche due visite che Kim Jong-un ha fatto fuori dai confini nordcoreani sono state in Russia Vladivostok e in Cina a Pechino e nelle città di confine cioè sono segnali fondamentali per capire quanto anche in politica estera i due paesi hanno una veduta convergente molto probabilmente perché la Russia insegue la Cina in certi casi e tutto quello che riguarda la via della seta riguarda anche la politica estera e molto la Russia la politica estera russa grazie mille grazie mille grazie mille e come promesso abbiamo mantenuto gli interventi brevi in modo da da avere un po' di dibattito io ho mille domande per entrambi e volevo insomma prenderne qualcuna dal pubblico ma anticiparvi quali queste domande da parte mia fossero per il professor Ferrari volevo sapere è stata descritta una convergenza anche valoriale tra Russia e Cina ma quali sono nello specifico i valori su cui Russia e Cina sono d'accordo se ci può dare qualche esempio concreto e per Giulia Pompili è stata una panoramica splendida quello stato di cui forse non hai fatto in tempo a parlare che io invece vorrei di cui sono molto curiosa è l'India l'India nel 2017 è entrata a far parte della SCO ed è stata soprattutto la Russia a promuovere questa questa membership indiana per un po' si dice per controbilanciare lo strapotere cinese e la Russia tra l'altro promuove il dialogo con l'India che attraverso un altro forum chiamato RIC Russia India e Cina ma la Cina sembra un po' più restia ad includere l'India insomma nella relazione e fare questo menage a Troyes come la vedi e invito il prego una domanda al professore vuole il microfono ecco volevo chiedere due cose la prima se in questa relazione che si sta costruendo si sta consolidando tra Russia e Cina lei non vede che non ha la sensazione che la Russia abbia veramente molto da perdere perché se per caso la Cina a suo avviso non sta sfruttando in maniera molto opportunistica alcune alcune elementi fondamentali mi riferisco in particolare alla tecnologia militare russa dalla quale attingere e se lei non vede proprio mi ha anticipato sul discorso della Cina il discorso dell'India la vicina l'India diciamo i contrasti tra India e Cina sono noti se l'avvicinamento tra la Cina e la Russia non possa portare l'India ad avvicinarsi maggiormente verso l'Occidente grazie il rapporto con la Cina quali se ne ha quali conseguenze ha negli equilibri interni alla Russia in altri termini polarizza gli interessi polarizza diciamo il campo tra qualcuno che è favorevole e perfettamente allineato alla linea di Putin anche in vista del termine del potere del mandato di Putin stesso cioè se sta creando una forma di senso interno se è ipotizzabile che lo crei grazie allora prendiamo l'ultima e poi facciamo un secondo la prima signora Giuseppe Mazzoni consulente finanziaria in questo cambiamento di equilibri quindi verso un mondo appunto molto polare dove l'equilibrio forse non è ben determinato voi come vedete la posizione dell'Europa l'Europa è il primo mercato al mondo ha un'economia che è un terzo più grande di quella della Cina al momento quindi teoricamente potrebbe avere un potere notevole da esercitare sia adesso che in futuro non l'esercita pienamente perché sappiamo non abbiamo una politica estera unita però nel momento in cui gli Stati Uniti non sono più il garante dell'ordine internazionale probabilmente inevitabilmente diventa l'Europa il garante dell'ordine internazionale non so siete d'accordo o no? grazie ricordiamo che c'è un'altra sessione completamente dedicata a questa questione ma noi sapevamo sì quella adesso subito dopo questa ma sapevamo che sarebbe stato un argomento molto dibattuto ovviamente quindi anch'io ci terrei ad avere l'opinione dei relatori vogliamo iniziare con Giulia? Io sarei molto breve cioè sull'India vedo l'impossibilità del dialogo attualmente tra Cina e India per semplice fatto che le ultime elezioni in India hanno dato ragione al più populista dei leader dell'Asia che è Narendra Modi che ha fatto l'intera campagna elettorale e gli ultimi quattro anni di politica estera in funzione anticinese l'India è un paese che vuole essere indipendente e quindi dubito fortemente che possa riavvicinarsi in qualche modo all'Occidente o all'Europa o all'America per Modi l'India deve essere indipendente e completamente anticinese non è stato invitato il leader pakistano non è stato invitato nemmeno alla cerimonia di rinsediamento di Modi e la Cina che è uno dei principali partner del Pakistan diciamo anche il maggior protettore del Pakistan in questo momento non ha nessuna intenzione di cedere e devo dire che potrebbe essere l'unico luogo di scontro vero tra la Cina e la Russia in questo momento l'India e sulla sull'Europa sulla questione europea è il punto fondamentale di cui abbiamo parlato spessissimo che riguarda la firma del memorandum sulla via della città italiana cioè quello è il simbolo di quanto una politica estera strategica europea non può essere fatta nei confronti della Cina abbiamo perso l'occasione di gestire una potenza come la Cina perché ognuno è stato libero di poter decidere per i fatti suoi probabilmente per l'incapacità dell'Europa di gestire una decisione condivisa ma certo che lo strappo è stato enorme da quel punto di vista e quindi ognuno fa come vuole anche con l'equipaggiamento Huawei per esempio Germania Inghilterra Francia ma sulla politica sulla politica commerciale non è stato deciso nulla non è stato deciso nell'adesione abbiamo trattato per anni fino all'ultimo dettaglio un trattato di libero scambio con il Giappone abbiamo creato la zona commerciale free trade più grande del mondo eppure la Cina ha un'influenza fortissima ancora sulle infrastrutture strategiche europee e su quello se non c'è una politica unitaria esattamente come è stato trattato il trattato di libero scambio giapponese è difficile trovare poi una coerenza sì io lascierei stare le questioni economiche che poi verranno trattate anche in seguito la prima domanda è quella sulla convergenza valoriale Russia-Cina è una questione estremamente complicata riassumendo si può dire che entrambi i paesi non hanno per essere eufemistici la stessa visione occidentale della democrazia e dei diritti umani è un qualcosa che vedono in maniera estremamente diversa e sulla quale non accettano intromissioni da parte occidentale tanto la Cina quanto la Russia vedono questi richiami normativi da parte dell'Occidente come dei tentativi di intervento in questioni interne normalmente poi anche ipocriti nel senso che molto spesso l'Occidente è accusato di doppio standard nei confronti di paesi come Russia e Cina ma c'è anche qualcosa di più complesso c'è una crescente volontà di rifiutare esplicitamente proprio la normatività dei valori culturali e politici occidentali e il recupero sicuramente strumentale per certi aspetti ma comunque portato avanti con sempre maggiore convinzione nel discorso ufficiale russo sicuramente quello cinese sarei più esitante perché conosco molto meno vale a dire il recupero dei valori culturali e spirituali tradizionali che per la Russia è l'insistenza sui valori cristiani e per la Cina il recupero politico del confucianesimo che vengono recuperati come valori nazionali fondativi proprio in contrapposizione con la pretesa tra virgolette occidentale di esportare i valori universali che invece nell'ottica russa o cinese sono essenzialmente valori occidentali l'altra domanda quanto rischia la Russia di perdere nella collaborazione con la Cina credo molto io non credo affatto che i russi siano entusiasti di questa collaborazione non c'è grande amore a pelle tra russi e cinesi quando io per la prima volta andai in Russia ma non era Russia era Unione Sovietica non era Pietroburgo ma Leningrado i dottorandi occidentali erano ospitati in una ben precisa casa degli studenti i cinesi detestati e disprezzati in una dependence a parte insomma i russi hanno dovuto modificare abbastanza questo atteggiamento negli ultimi decenni però non è che si amino appassionatamente e non mi risulta che i cinesi amino appassionatamente i russi tra i due paesi c'è una convergenza ma è chiaro che dei due la Cina è nettamente più forte economicamente demograficamente e sta crescendo mentre la Russia è in una situazione particolare di crescita limitatissima quasi di ristagno per usare una vecchia parola di epoca sovietica è chiaro che dei due in questo condominio il primo posto toccherebbe sicuramente alla Cina e la Russia da questo punto di vista non guadagna molto da questa collaborazione non vorrei però portar via troppo tempo ma il problema che questa collaborazione russo-cinese si è estremamente rafforzata dopo la crisi soprattutto ucraina ma il peggioramento era avvenuto già prima che in larga misura dal mio personalissimo punto di vista è dovuto alla politica idiota dell'Occidente nei confronti della Russia che ha sbagliato praticamente tutto in una situazione in cui il vero competitore dell'Occidente e in particolare degli Stati Uniti è la Cina respingere la Russia come è avvenuto dopo la crisi ucraina verso est verso la Cina è la cosa più stupida che si possa fare la Russia non guadagna da questo avvicinamento alla Cina ma ci perde molto di più l'Occidente che perde una forte possibilità di partenariato di collaborazione con la Russia che invece si sente costretta ad avvicinarsi alla Cina rafforzandola da questo punto di vista l'avvicinamento russo-cinese è vantaggioso per la Cina credo famoso il caso dell'accordo sul gas del 2014 tra Russia e Cina del quale ne parlavamo prima con la collega Zafiesova non si è mai potuto rendere pubblico il prezzo che la Russia ha accettato di vedersi pagare dalla Cina perché la Russia ha dato in perdita ci guadagna solo la Cina da questo scontro tra Russia e Occidente la Russia non ci guadagna quasi nulla se non un po' di sicurezza psicologica ed economica ma l'Occidente ci perde parecchio insomma quindi quando guardiamo questo riavvicinamento questa collaborazione russo-cinese dovremmo tenere presente che l'Occidente ci perde a mio giudizio notevolmente sul rapporto su questo riavvicinamento ho già in parte risposto se tutti i russi siano allineati alla volontà del governo credo che se ne parlerà anche dopo non sono particolarmente entusiasti gli economisti non sono d'accordo la società civile non è entusiasta io consiglio la lettura di un magnifico e terribile libretto la letteratura russa non è più quella dell'Ottocento ma continua a essere produttiva uno scrittore che si chiama Sarokhin ha scritto una giornata di una Prichnik che è un Prichnik che diciamo era una guardia dell'epoca di Van il Terribile e in questo breve romanzo la collaborazione l'avvicinamento russo-cinese è descritto in maniera tremenda si descrive una Cina si descrive scusate una Russia che si sinizza che diventa sempre più asiatica sempre più terribile e la cui elite russa si ispira al modello cinese sempre di più i russi hanno sostanzialmente paura di questo avvicinamento vi ripeto non c'è grande desiderio ma la Russia si sente in parte obbligata a migliorare la collaborazione con la Cina costretta da una situazione geopolitica che la vede respinta dall'Occidente quindi credo che queste considerazioni vadano tenute tutte presenti per comprendere le dinamiche del rapporto che sono estremamente complicate Sì solamente per aggiungere questo fatto la grande differenza tra la strategia russa e quella cinese è che la Cina per anni cioè anche dal punto di vista dell'intelligence per esempio della raccolta delle informazioni la Cina ha una strategia sul lunghissimo termine non sul lungo termine e per anni ha portato avanti questa strategia sotto ai nostri occhi senza che nessuno se ne accorgesse e basta guardare all'Africa e a quello che sta facendo l'influenza strategica che ha in Africa la Cina non solo infrastrutturale e di debito contratto con le maggiori potenze africane di tutto questo ce ne siamo accorti un anno fa improvvisamente quando la Cina è arrivata praticamente alle porte del Mediterraneo e si è comprata la Grecia e improvvisamente le cancellerie e le ambasciate in Italia hanno detto ma c'è un problema con i cinesi quando personalmente ho parlato con vari funzionari delle ambasciate dei ministeri delle ambasciate americane in Europa tutti mi dicevano che l'ossessione del Dipartimento di Stato e delle ambasciate quindi la funzione delle ambasciate soprattutto in Europa era quella di controllare la Russia e quindi fare tutti i giorni il report sulla Russia e quando io facevo delle domande su il possibile arrivo di una firma sulla Via della Seta da parte di partner strategici europei nessuno aveva idea che questo potesse accadere nel brevissimo periodo poi improvvisamente è arrivato qualcuno e ci ha detto che il modello cinese era perfetto per risolvere anche il problema dell'immigrazione in Italia e in Europa perché i cinesi comunque davano un sacco di soldi agli africani e quindi avevano risolto anche quel nostro problema la potenza del soft power e della strategia cinese è esattamente questa cioè risolvere dei problemi sul breve periodo ma conquistare il favore sul lunghissimo termine una cosa che la Russia probabilmente forse per ragioni economiche però non ha la stessa capacità così pragmatica io inizierei con la seconda sessione ma le do il diritto della prima domanda durante la seconda sessione in ogni caso i relatori rimarranno qui grazie mille a Aldo Ferrari e Giulia Pompili per i loro interventi e invito il professor Cavalieri e Anna Zafiesova a venire qui sul palco allora come come dicevamo prima questa sessione si focalizzerà proprio su questa sfida all'ordine liberale che Russia e Cina stanno conducendo congiuntamente ne parliamo con il professor Renzo Cavalieri professore di diritto dell'Asia orientale all'Università Ca' Foscari di Venezia e anche off-cancel dello studio legale Bonelli Erede e con Anna Zafiesova giornalista della stampa prego professor Ferrari inizierò con lei Cavalieri Cavalieri il professor Ferrari è lui buonasera a tutti grazie innanzitutto grazie io invece come il mio collega Aldo Ferrari conosce poco la Cina conosce poco la Cina io conosco poco la Russia nel senso che sono 30 anni che mi occupo di Cina all'inizio inizio forse c'era ancora una certa comunanza tra i due sistemi quantomeno la comune origine leninista dell'apparato dello Stato man mano che passa il tempo questa questa vicinanza si è un po' persa e complimenti per il libricino nel senso che io appunto che non ho seguito specificamente i rapporti fra Cina e Russia in questi anni ci ho trovato sia una serie di informazioni molto approfondite sia una visione molto coerente allora io volevo toccare tre temi il primo tema parte dalla da una serie di osservazioni che ho fatto sul fenomeno della Belt and Road e c'è della nuova via della seta cinese e sulla sua istituzionalizzazione perché alla fine io mi occupo di diritto tendo a vedere anche le evoluzioni geopolitiche in termini istituzionali fra l'altro ho dei commenti anche rispetto a quanto diceva Giulia Pompili alla domanda rispetto al tema dell'Europa proprio rispetto alla Belt and Road per farla breve avendo dieci minuti in tutti ed essendo i punti tre cerchiamo di stare in tre minuti per questo primo per farla breve quello che sta succedendo nel posizionamento della Cina nel framework nel quadro istituzionale globale è un fenomeno duplice o parallelo infatti io ho parlato di diritto parallelo cioè la Cina da un lato in questi venti anni ha e con questa iniziativa della nuova via della seta ha fortemente rafforzato questa propensione da un lato ha incrementato la sua partecipazione all'ordine Bretton Woods chiamiamolo cioè all'ordine istituzionale a guida occidentale uscito dalla seconda guerra mondiale quindi se si analizza il comportamento della Cina in sede WTO per esempio e o in sede i consigli di sicurezza delle Nazioni Unite certamente c'è una sempre maggiore familiarità con quei mezzi tenete anche conto che i cinesi hanno aderito alla WTO nel 2001 e avevano pochissime risorse umane che fossero in grado che parlassero bene l'inglese che fossero in grado di gestire le complessità di un'organizzazione internazionale del genere ci ha messo vent'anni sta familiarizzandosi con quelle istituzioni e comincia a usare i meccanismi di risoluzione delle controversie a diciamo inserire i propri interessi nella formulazione delle regole nella parte normativa dei rapporti internazionali e in parte mi pare di capire che anche la Russia sta seguendo un percorso in qualche modo simile quello che però succede con la Cina e non succede almeno mi pare con la Russia è che la Cina sta costruendo un sistema istituzionale parallelo alternativo a quello di Bretton Woods cioè sta costruendo una serie di istituzioni che sul lungo periodo perché era giustissimo quello che diceva Giulia prima sul fatto che i cinesi ragionano con delle strategie di lunghissimo periodo eppure anche di brevissimo periodo perché hanno questa straordinaria capacità anti-aristotelica di gestire le contraddizioni in un modo che ci sorprende sempre e il caso più evidente della formazione di un apparato istituzionale alternativo a quello di Bretton Woods è la Asian Infrastructure Investment Bank la banca per le infrastrutture asiatiche che è a guida cinese è alternativa chiaramente alla Asian Development Bank non ha nel proprio capitale gli statunitensi mentre ha la Russia con una quota del 6 mi sembra e mezzo per cento all'Italia e vorrei dire a proposito di India che il primo destinatario dei fondi dell'AIB è l'India quindi anche lì difficilissimo un argomento difficilissimo da un lato possiamo dire che l'India è la più resistente all'espansione cinese perché è quella che potenzialmente diciamo alla natura di rivale sistemica più precisa ma da un altro punto di vista invece guarda un po' approfitta più di tutti di questo flusso finanziario enorme che si muove soprattutto verso l'Asia non ho l'impressione che SCO la Shanghai Cooperation Organization o i BRICS o la EAEU o queste altre aggregazioni abbiano un grande futuro non c'è almeno mi pare niente che abbia la portata epocale della costruzione di un sistema giuridico alternativo che i cinesi stanno mettendo in piedi sul quale però non mi disperdo secondo punto diciamo crisi del multilateralismo è quello che nel libricino è stato sostanzialmente visto crisi in un modello unipolare in sostanza Russia e Cina hanno fondamentalmente in comune il fatto di essere alternativi a questo modello cioè di tutte le cose che si possono trovare che hanno in comune la maggiore è la loro alterità rispetto al modello occidentale tradizionale voi Aldo e Eleonora l'avete strutturata in multipolarismo homegrown values i valori nati nelle proprie locali e la sovranità e allora io ho cercato di mettere giù un po' di punti diciamo di questa alternatività un po' anche rispetto alla domanda sul modello valoriale alternativo innanzitutto c'è certamente il punto che ha menzionato il professor Ferrari cioè il punto che questa democrazia gestita russa e il sistema socialista e mercato cinese sono strutturalmente una alternativa alla democrazia rappresentativa come noi la conosciamo che peraltro e questo è un punto tema molto delicato è moltissimo in crisi per conto suo senza Trump senza i russi senza la Belt and Road è in qualche modo come dire al culmine o alla fine di un processo di trasformazione e nessuno di noi ha la più pallida idea dove vada a parare questo processo certamente il modello putiniano e quello cinese di Xi Jinping sono un'alternativa che gradualmente acquista credibilità man mano che noi ne perdiamo col sistema diciamo ottocentesco poi c'è il tradizionalismo quello anche qui a cui accennava il professor Ferrari in entrambi i casi c'è una sorta di rifiuto delle derive più non so come definirle in questo momento anche molto delicato dal punto di vista diciamo l'attenzione a certi diritti a certi interessi a certe libertà che confliggono con le tradizioni le pance popolari tanto in Russia quanto in Cina c'è soprattutto un'idea comune di priorità dell'interesse collettivo rispetto agli interessi alle libertà e ai diritti che i cinesi hanno iscritto nella Costituzione all'articolo 51 in cui si dice i cittadini hanno godono delle libertà e dei diritti purché questi diritti non confliggano con l'interesse pubblico con l'interesse sociale la formulazione a memoria non la ricordo in Russia questa cosa non c'è e qui merite di aprire una brevissima parentesi però è evidente lo stesso che la libertà le libertà hanno un perimetro più ristretto di quello a cui noi almeno nella nostra narrativa di noi stessi quelle che immaginiamo no dicevo che c'è una grande differenza fra Cina e Russia e io l'ho percepita in questi giorni hongkongesi in particolare cioè per quanto autoritario il governo russo si colloca in un quadro costituzionale molto più simile a quello dei sistemi diciamo di rule of law all'occidentale c'è una separazione dei poteri per quanto ci sia questo giudiziario che viene chiamato incestuoso perché ha dei rapporti troppo stretti con la politica per quanto ci sia una legislazione estremamente rigida contro tutta una serie di soggetti potenzialmente pericolosi però la Cina è un totalitarismo con una componente innovativa che non ha precedenti al mondo in questo momento la critica al presidente Xi Jinping su un social network qualunque di quelli cinesi ovviamente perché quelli occidentali non sono ammessi è immediatamente raccolta chi controlla i social lo sa immediatamente l'account generalmente viene sospeso in temporale eccetera la Russia è molto più indietro da questo punto di vista quindi i due modelli a mio parere dal punto di vista giuridico hanno in comune alcune macro visioni del mondo ma in realtà poi un sistema di funzionamento molto diverso la Cina politicamente è molto meno globale della Russia cioè è vero che ha una enorme presenza in Africa ormai questi massicci finanziamenti in Sud America eccetera però è molto meno presente soprattutto nelle aree di crisi per il momento ha tenuto un profilo molto basso ad esempio dal punto di vista militare finisco terzo e ultimo punto noi abbiamo un problema molto grosso di identità sia come occidente sia come Europa sia come Italia scendendo rispetto alla domanda che faceva il signore prima o alla risposta di Giulia la mia impressione personale anche all'esito della visita di Xi Jinping e della firma del memorandum of understanding è che l'Europa su questo tema non sia in grado di formare una posizione politica nemmeno vagamente unitaria perché se è vero che la politica commerciale è di competenza dell'Unione tutte le altre politiche gli investimenti la tecnologia le tasse eccetera sono di competenza degli stati e fino a quando gli interessi di alcuni stati forti in particolare la Germania si diciamo prosperano in questo quadro frammentato è impossibile che vi sia una posizione unitaria a mio parere almeno e noi appunto abbiamo un problema però di gestione di questo fenomeno e allora a me è più che dire come ci poniamo rispetto alla Cina la Russia mi interessa capire il registro linguistico che usiamo cioè il mondo sta cambiando si apre un un mondo multipolare veramente di cui nessuno ha idea può darsi che l'India come dice Parag Khan abbia un ruolo maggiore può darsi che la Cina predomini su tutto ma comunque si è nuovo e noi continuiamo invece a usare il linguaggio vecchio l'Occidente eccetera ecco secondo me questo è un lavoro da fare un lavoro di tipo se volete proprio linguistico grazie scusate grazie mille insomma un'istanza che condividiamo e che tentiamo di mettere in pratica coinvolgendo anche sempre di più autori locali che non siano sempre i soliti autori occidentali per avere appunto un dibattito più ricco e meno centrato sulla visione occidentale ma molto lavoro c'è da fare e mi è piaciuto molto l'ultimo punto sul no sul fatto che la Russia stia il governo di Vladimir Putin stia tentando di andare nella direzione del controllo assoluto sui propri cittadini come la Cina ma che in realtà si scontra con una società civile che è più attiva e con dei vincoli istituzionali che sono più stringenti e in questo senso volevo chiedere ad Anna anche la sua opinione c'è una convergenza anche in termini di repressione del dissenso tra Russia e Cina come la vedi? ma io infatti volevo ripartire da questo punto anche delle differenze delle identità delle percezioni di identità diverse che ci sono in Russia e in Cina allora innanzitutto non c'è assolutamente la stessa repressione cioè noi abbiamo a che fare in caso della Russia con un sistema che possiamo chiamare autoritario poi sono stati usati varie terminologie nel corso degli anni la democrazia gestita la democrazia liberale la verticale di potere eccetera non stiamo avendo a che fare con un totalitarismo come peraltro era l'Unione Sovietica e quindi con un sistema strutturato di cui l'apparato repressivo faceva era parte integrante quando non motore quindi sì stiamo assistendo a tentativi per esempio di controllare il web che non sono lontani ogni luce dal grande firewall cinese da tutta una serie di altre misure e comunque vediamo come anche questi tentativi intrapresi come la legge per esempio che vieta la critica delle autorità abbiamo già visto i primi arresti le prime incriminazioni e che sono alcune decine rispetto a milioni di persone che ogni giorno continuano a scrivere peste corna delle autorità basta che andate a guardare l'account twitter del premier Dmitri Medvedev non potete andare a guardare quello di Vladimir Putin perché Vladimir Putin non è sui social e diciamo che ogni post di Medvedev è seguito da più o meno 600 insulti di varia natura piuttosto crudi e quindi diciamo semmai la Russia è un autoritarismo che mostra ogni giorno come appunto non riesce a diventare una un totalitarismo vero e intimidatorio e questo in parte ci lo possiamo ricondurre anche al fatto che sottolineava giustamente il professor Cavalieri che la Russia è un sistema para occidentale anche nel suo ordinamento cioè la perfino l'Unione Sovietica in qualche modo cercava comunque di copiare anche nel suo assetto costituzionale almeno formalmente la divisione dei poteri c'era un parlamento un esecutivo un sistema giudiziario eccetera eccetera tutto questo con ruolo guida ovviamente del partito comunista la Russia post comunista la Russia post 91 è stata totalmente costruita prendendo a modello l'Occidente tra il modello agrosasso e il modello francese però e attingendo un po' anche da altre esperienze europee però diciamo la Russia che vediamo oggi è nata da un'idea che che poi quella più volte ormai smentita e ormai citata soltanto per come esempio di della scarsa logimiranza dell'Occidente e della fine della storia cioè che la Russia tornava parte dell'Europa quale peraltro la stessa Russia tutto sommato si considera ci sono stati vari periodi nella storia russa come quello che stiamo vivendo adesso dove la classe dirigente e l'elite intellettuale cominciava a promuovere teorie euroasiatiche di un'identità separata addirittura di una civilità sestante che la Russia rappresentava di solito sono sempre state teorie dettate in buona parte da un momento politico e che non hanno mai avuto diciamo che non hanno mai avuto una realizzazione particolarmente particolarmente efficace la Russia è una parte dell'Europa e dell'Occidente in senso più esteso tra l'altro in buona parte il rapporto tra la Russia e la Cina questa svolta a Oriente proclamata dal Cremlino nel 2014 deriva proprio da questo rapporto diciamo della frustrazione in questo rapporto della Russia con l'Occidente nel rapporto dell'ISPI Russia e Cina anatomia di una partnership si parla molto di un matrimonio di convenienza allora in qualche modo un matrimonio forzato di necessità perché nella percezione di quella sia dell'opinione pubblica russa che della leadership russa l'Europa non ci ha voluti e quindi ci è toccato rivolgereci a guardare a est ma se voi guardate anche se analizzate la narrativa anche nei media anche nella propaganda della russa degli ultimi cinque anni è un continuo contrapporsi all'Occidente all'Europa agli Stati Uniti confrontarsi contrapporsi dichiararsi migliori ma comunque anche nel negativo quel metro di paragone quello specchio nel quale Russia si guarda rimane sempre rimane sempre l'Occidente e il modello il modello americano ed europeo tra l'altro vediamo io vi consiglio molto la lettura del rapporto dell'ISPI in particolare del saggio di Aleksandr Gabuev che ripercorre molto bene l'evoluzione del rapporto tra Mosca e Pechino degli anni post comunisti quindi non sto qui a dilungarmi a raccontarvi nei dettagli e vi dico soltanto che si è trattato della parabola estremamente molto particolare perché Vladimir Putin come sappiamo da fonti molto affidabili fino ai primi anni zero sosteneva e temeva la Cina come la minaccia principale alla Russia sia perché esisteva un lungo tratto stiamo parlando di alcune migliaia di chilometri di confine non regolato sia perché la crescente potenza della Cina con una Russia economicamente militarmente politicamente in declino preoccupava molto sia perché una parte dell'estremo oriente russo poco popolata e ricca di risorse era confinata con una Cina invece demograficamente molto più popolata e in espansione economica e in cerca di risorse naturali quindi diciamo la paura della Cina era molto presente nell'establishment russo e quindi la svolta la svolta est arriva dopo sostanzialmente dopo che la Russia si sente tradita espulsa ignorata non considerata partner uguale che è una retorica ripetuta ossessivamente da Vladimir Putin dall'occidente e qui tra l'altro approfitto per rispondere anche alla domanda che era stata fatta prima al professor Ferrari sul dissenso nella leadership russa riguardo a questa svolta est il dissenso sicuramente c'è stato anche perché noi parliamo spesso di di Putin di Cremlino di Putinismo come di un come di qualcosa di che che si equivale è vero che Vladimir Putin è il perno di un sistema e il suo volto e il suo motore però è vero anche che proprio in virtù dell'assenza di altre forze di opposizione di una dialettica politica di tipo democratico in Russia proprio per questo gli scontri si svolgono tutti all'interno dell'establishment quindi noi abbiamo per esempio dei lobbisti molto altolocati della causa cinese come tratto alcuni oligarchi molto molto vicini a Putin che hanno promosso accordi addirittura spinto per passaggi per esempio per chiudere o limitare al massimo i rapporti con istituzioni finanziarie o per esempio con i limititori delle carte di credito occidentali a favore invece degli analoghi o dei concorrenti cinesi ma abbiamo avuto anche appunto numerosi numerosi esponenti sia dell'elite economica che politica che invece sono molto più prudenti e non contrari anche perché ovviamente ignorare la Cina e la potenza economica della Cina in questo momento è assolutamente impossibile però che appunto hanno invitato a una maggiore prudenza questo tra l'altro e vi rimando di nuovo al rapporto dell'ispi è confermato anche dai dati dell'interscambio dove si vede che comunque l'Europa rimane un partner molto più importante e qui anticipo un po' quello che poi saranno i contenuti del panel successivo dedicato all'economia l'Europa rimane un partner un interlocutore economico molto più importante nonostante le sanzioni della Russia rispetto alla Cina a questo aggiungo un aspetto che era già stato un po' affrontato dal professor Ferrari e qui finisco sul rapporto diciamo della supremazia perché appunto la Russia storicamente l'Unione Sovietica ancora era abituata a trattare la Cina soprattutto la Cina di mano come un partner minore come un fratello minore al quale insegnare questo rapporto che si presenta oggi è un rapporto dove la Russia non può che svolgere un ruolo diciamo sottoposto alla Cina cosa che per un paese che basa la sua politica anche in una parte interna la sua rivendicazione di un great again anche su una grossa ritorno dell'identità nazionale della supremazia nazionale quindi entra un po' in collisione con quello che appunto un'alleanza del genere può essere per approfondimenti su altri aspetti a questo punto ci ritorniamo sopra nelle domande che farete grazie grazie mille mi è sembrato molto interessante il tuo tentativo di dare un po' delle sfumature anche nel discorso mediatico soprattutto occidentale si presenta la Russia e il Cremlino come un blocco monolitico in cui decide solamente Putin mentre è vero che coesistono diverse... esatto però ci sono altre anime eccetera mi è anche sembrato molto interessante il tuo riferimento all'estremo oriente russo e soprattutto alla paura atavica dell'invasione cinese magari durante la discussione potresti tornare su questo punto per chiarire dove sono andate quelle paure non se ne parla più di questo vicino ingombrante cinese e della sua minaccia di land grabbing o se ne parla ancora però vorrei aprire di nuovo il dibattito se ci sono delle domande... adesso arriva il microfono mi chiedevo se la Cina e appunto anche la Russia la Russia investe molto nel campo militare per diciamo sopravvivere perché è sempre difesa mi sembra sia nell'Asia sia dal desiderio di altre potenze di conquistarle se vediamo nel medioevo non so gengiscano eccetera ma mi chiedevo se per esempio l'attività commerciale per esempio della Cina che ha dei surplus così notevoli perché non li investe nel popolo cioè non aumenta il benessere del proprio popolo e quindi non crea problemi commerciali con tutto il resto del mondo non è una forma di imperialismo che vuole colpire sia l'Asia sia anche altri paesi e quindi crea questa forma di riserva di mano d'opera che produce quantità di prodotti a prezzo talmente risori che poi possono danneggiare l'Occidente che è diciamo l'esempio da seguire ma se non esiste più l'Occidente che cosa copierà la Cina? non rispondo io, non mi permette buonasera tre cose lampo e poi mi aiuta il professore allora la prima cosa ho sentito parlare dell'Occidente ovviamente io declinerei un po' sugli Stati Uniti nel senso che fino a oggi, fino a questo momento non abbiamo nominato il fatto che gli Stati Uniti comunque dal crollo del muro di Berlino in poi e via via molto più a partire dai primi anni 2000 hanno individuato la Russia e poi la Cina come antagonisti strategici e si sono mossi in questo senso fattivamente quindi è un po' il professor Ferrari ci aiutava a leggere anche la reticenza della Russia ad avvicinarsi alla Cina proprio perché sente una pressione e un'ostilità sostanzialmente americana più che io dico la parola occidentale per me è una parola un po' vaga perché da tutti i punti di vista e voi dell'ISPI tutti i giorni ci aiutate bene a leggere questa realtà comunque gli Stati Uniti restano ancora decisamente con le mani sul timone insomma insomma prima sentivo parlare di strategie europee, politiche europee ma insomma sono abbastanza zoppicanti comunque venendo alle domande Lampo secondo il professore la Russia potrebbe essere recuperata dagli Stati Uniti quindi dall'Occidente in un'ottica prettamente anticinese la seconda domanda se mi aiutate se ci aiutate a fare un affondo un pochino su quali sono le divergenze proprio profonde, strategiche fra la Cina e la Russia e vi ringrazio molto non sta a lei c'è un'altra domanda una domanda esatto limitiamoci a una domanda e poi vediamo se c'è tempo prego se siamo concentrati di prestiti se siamo concentrati di prestiti la parte ci sente adatto c'è la sessione economica la sessione successiva sarà interamente dedicata un'altra domanda c'è spazio arriva il microfono buonasera vorrei solo chiedere una cosa a memoria di tutti ma velocemente non dimentichiamoci che alcuni decenni or sono ci fu un conflitto al confine russo-cinese di cui si parlò pochissimo perché allora c'erano le censure che funzionavano e funzionavano molto quindi non c'erano i media e durò una settimana e si parlò di 3.000 morti in realtà io mi occupavo di scenari strategici i morti furono tra le due parti più di mezzo milione quindi i russi hanno una memoria storica di questa cosa i cinesi meno perché sono cambiati molte situazioni da quel momento in poi è morto Mao molti sono stati imprigionati molti governatori sono cambiati ma i russi la memoria ce l'hanno di questa cosa va bene c'è una domanda che sia una domanda non un commento per semplificare quella che sarà la mia domanda finale io vorrei visualizzare in questo schermo una partita a poker dove ci gioca il presidente della Cina Putin Trump e mettiamoci anche Modi ecco io guardando questa sfida non cito l'Europa perché mi sembra schiacciata tra tra delle situazioni piuttosto titubanti ecco io guardando questa partita io immagino che il vincitore di questa partita poker sia il presidente della Cina perché per il semplice fatto che la storia della Cina è la più lunga che esista e pertanto lui oltre a questo ha spazi aperti su tutti gli altri fronti che lui sta giocando in una maniera geniale e a questo punto dico ci sarà mai un bipolarismo tra Stati Uniti e Cina questa è la domanda per entrambi i relatori va bene vogliamo iniziare con te Anna allora mi pare che la domanda principale che riguarda il lato russo sia quella su quali sono i punti di attrito potenziali o reali tra Russia e Cina allora sono numerosi e tra l'altro il rapporto di cui stiamo parlando li elenca tutti sia quelli in divenire sia quelli già reali tra una lista rapidissima l'Asia centrale l'Asia centrale che è considerata da Mosca un proprio territorio di dominio sia economico che militare e che ormai è sempre più gravita sempre di più verso la Cina anche perché la Cina ha molte più risorse anche perché per motivi territoriali per motivi infrastrutturali per mille motivi l'interscambio e i legami tra la Cina e i paesi ex sovietici dell'Asia centrale e del Kazakistan sono sempre più forti mentre il controllo russo è sempre più esile un altro aspetto di cui tratto non si parla molto perché appunto noi giornalisti titoliamo molto sui grandi accordi firmati di cooperazione su Xi Jinping o Putin che si sono incontrati e hanno promesso miliardi e decine e decine di contratti la realizzazione qui di nuovo senza voler anticipare i colleghi che ci seguiranno nel panel dedicato all'economia c'è un aspetto che però è più politico che economico i finanziamenti che la Cina è disposta a concedere alla Russia e che innanzitutto sono comunque finanziamenti cioè la componente ideologica è molto scarsa i cinesi giustamente vogliono investire in quello che può essere interessante da un punto di vista economico c'è anche uno scontro tra due elite che vorrebbero spartirsi i proventi di questi investimenti per esempio molti imprenditori russi e molti dirigenti delle regioni russe governatori eccetera si sono trovati davanti alla spiacevole sorpresa dei cinesi che in cambio del prestito dei finanziamenti o degli investimenti che volevano fare pretendevano anche il controllo sul progetto e i fornitori cinesi che è totalmente analogica diciamo del prestatore ma che per un elite russa che in buonissima parte si basa sull'estrazione diciamo di profitti dalle posizioni di potere mettiamola così e significa che viene meno una fonte di entrata essenziale per esempio questo è sicuramente un altro conflitto l'aspetto militare non è non stiamo parlando di uno scontro all'ordine del giorno della paura russa di uno scontro militare con la Cina all'ordine del giorno sicuramente no però siccome la potenza militare è una delle grandi scommesse delle carte più forti che la Russia continua a giocare nel mondo di oggi assistere alla crescita della potenza militare cinese e vedere come anche questa carta russa sta diventando sempre meno interessante da giocare sicuramente non fa piacere al cremino questo proprio una rapida carrellata di quei nodi che possono venire al pettine già nei prossimi anni senza parlare poi appunto del futuro strategico e del fatto che comunque la Russia deve accettare nel caso di un'alleanza con la Cina di essere un partner minore e infine un ultimo aspetto che mentre la Russia tutto sommato spinge per uno scontro abbastanza frontale con gli Stati Uniti e con l'Europa anche per motivi già perché i suoi rischi economici sono abbastanza ridotti e la Cina questo scontro finora sempre evitato non è previsto per il momento mi pare che invece cambi posizione anche perché per la Cina e per la sua crescita l'interscambio con la parte occidentale del mondo è cruciale allora io sono d'accordissimo su questo la Cina tendenzialmente in questo momento ha tutto l'interesse a mantenere uno stato pacifico armonioso il più possibile oddio questo valeva fino a qualche mese fa adesso stanno di nuovo cambiando le cose viviamo in un'epoca abbastanza avventurosa dal punto di vista di chi si occupa dei rapporti internazionali allora sulla domanda di prima fila io credo che il tema è molto complesso e lo lascio magari il professor Ferrari ha qualcosa da dire su questo i motivi di resistenza di ostilità dei russi rispetto ai cinesi credo che abbiano declinazioni più varie ci sono cose subconsce dell'epoca mongola piuttosto insomma c'è un po' di tutto c'è questa sensazione stranissima quando ho cominciato io a studiare il cinese i russi erano il fratello maggiore ancora il fratello maggiore negli anni 80 non aveva più senso rispetto agli anni 50 però era ancora il modello che quando i cinesi si sono messi a legiferare dopo i dieci anni di giusnichilismo maoista quello era il loro riferimento era la traduzione delle cose russe e di colpo si sono trovate a diventare il fratello minore un po' anzi che magari è muscoloso però non è che sia proprio particolarmente interessante nel tipo di prospettiva di crescita cinese invece due brevissimi punti sulla Cina il signore della partita poker ma certo tutti credo che qui scommetterebbero su Xi Jinping tra i quattro che stanno giocando però secondo me da un lato è effetto del marketing dei cinesi i cinesi sono stati in gradi anche con questa storia della Belt and Road di fare dei brand così forti del proprio successo che hanno convinto tutto il mondo che il futuro è nelle loro mani il che è vero ma solo in parte perché i player sono tanti soprattutto in Asia perché c'è l'India perché c'è il Giappone perché c'è la Corea che ha una grandissima potenza e che in prospettiva unificata diventa una potenza sia industriale tecnologica sia militare insomma il mondo è più complesso di quanto i cinesi non tendono a far pensare agli altri la vera grande differenza che io vedo fra i cinesi e tutti gli altri in questo momento inclusi gli statunitensi è il passo dell'innovazione cioè i cinesi hanno un passo di innovazione tecnologico che noi non abbiamo neanche da lontano in Europa che pure è una delle parti avanzate non parliamo dell'Italia e anche gli Stati Uniti faticano molto per cui per esempio a mio parere tutto il tema 5G che è stato letto com'è non apriamo che i cinesi entrano e ci spiano in realtà il tema è possiamo permetterci di non usare tecnologia cinese per quanto tempo? Per cinque anni? Per dieci? Grazie mille a entrambi i relatori e inviterei professoressa Lucia Taglioli e Antonella Scott come preferirei come preferirei Renzo come anticipato questa sessione è dedicata ai vettori economici della partnership psino-russa e abbiamo con noi due esperte che ci aiuteranno a capire quali siano le dimensioni la profondità di questa cooperazione economica ma anche le limitazioni inizierei con Lucia Taglioli professoressa di economia internazionale al Politecnico e Senior Associate Research qui all'ISPI ci vuole dare una panoramica in generale di questa cooperazione economica? Grazie grazie mille come è già stato detto dai relatori che mi hanno preceduto il rapporto che qua discutiamo contiene un capitolo credo molto esaustivo e interessante proprio sugli aspetti economici di questa partnership russo-cinese e come spesso accade in molti su molti tavoli in cui si giocano le relazioni internazionali l'economia magari non prende proprio la posizione primaria ma in realtà ha un ruolo assolutamente cruciale e molta dell'evoluzione che noi osserviamo anche dal punto di vista geopolitico strategico e militare è legato a delle relazioni economiche che sono molto particolari tra questi due paesi e che sono appunto ben descritte nel capitolo del rapporto come è stato detto anche per gli aspetti politici e militari i rapporti economici tra questi due grandi paesi sono stati virtualmente inesistenti per un periodo molto lungo e anche dopo la caduta dell'Unione Sovietica e nei primi anni di nascita del colosso economico cinese i rapporti erano molto scarsi e questo perché ovviamente c'è una grande assimmetria nella posizione economica dei due paesi che è tuttora il punto cruciale io credo di questa relazione intanto poi però ci sono anche queste assimmetrie che possono diventare delle complementarietà che sono quelle che hanno invece fatto scattare la fase che noi osserviamo in questo momento nei rapporti economici russi e cinesi allora come credo tutti qui sappiano ovviamente la Russia è dal punto di vista economico prima di tutto un colosso nei mercati delle materie prime del petrolio e del gas e di altre materie prime la Cina non si distingue da questo punto di vista ma è invece un colosso ovviamente come esportatore di manufatti e come è stato ricordato poco fa di tecnologia quindi se noi guardiamo queste due diciamo queste due specializzazioni di questi due paesi una complementarietà perfetta la Cina ha bisogno di molta energia divora un sacco di energia divora un sacco di materie prime quindi quale partner migliore della Russia che ha grandi giacimenti di questo tipo di materie prime dall'altro la Cina è fortemente avanzato è un paese fortemente avanzato nella produzione manifatturiera molto più avanzata tecnologicamente e quindi quale migliore partner per la Russia quindi sulla carta tutto sembrerebbe funzionare splendidamente ovviamente le cose non stanno proprio così evidentemente perché è su queste basi che sono molto aumentati gli scambi tra Russia e Cina negli ultimi anni effettivamente proprio sulle basi di questa forte complementarietà di specializzazioni ma questa complementarietà di specializzazioni può anche diventare e questo soprattutto dal punto di vista russo è molto mal visto un problema di dipendenza infatti fin dagli anni 90 dalla fine degli anni 90 e negli anni 2000 dal punto di vista economico la Russia ha sempre cercato di sviluppare un modello economico più diversificato di quello che abbiamo adesso come dicevo la Russia esporta per oltre 70% petrolio gas naturale e altre materie prime le sue esportazioni di beni manufatti o di altri beni sono estremamente limitate e nonostante gli sforzi per oramai quasi 20 anni di diversificare la propria economia questo non è successo in modo efficiente anche l'adesione al VTO che la Russia aveva molto fortemente perseguito e che ha raggiunto dopo trattative molto molto lunghe mirava a questo ma non ha portato questo risultato dal punto di vista dei consumatori russi quindi la partnership con la Cina è una cosa positiva perché permette di accedere a tutta una serie di manufatti e tecnologie difficili da prodursi in casa in Russia ma ovviamente crea un problema di dipendenza che può essere effettivamente pesante perché rallenta ulteriormente lo sviluppo di una serie di settori manifatturieri in Russia dal punto di vista della Cina la situazione è migliore la Cina si muove in modo abbastanza come anche questo è già stato ricordato in modo poco diciamo aggressivo almeno come atteggiamento di apparenza e quindi non vuole dare l'idea di colonizzare il mercato russo ma di fatto dal punto di vista economico quello che alcuni osservatori vedono nell'attuale rapporto tra Cina e Russia è proprio quello tra una grande potenza e la sua colonia io ti prendo le materie prime che io non ho e in cambio ti do la mia tecnologia che tu non sei in grado di sviluppare quello che avveniva in alcuni imperi coloniali quindi è chiaro che questa fortissima asimmetria nelle relazioni economiche chiaramente crea delle tensioni al di là di quelle che sono appunto le strette di mano gli incontri e le cooperazioni che vengono firmate l'iniziativa Belt and Road della Cina ha ulteriormente soffiato sul fuoco di questo potenziale tensione economica nel senso che se da un lato ovviamente lo sviluppo di un sistema infrastrutturale che colleghi tutta l'Asia può anche andare incontro a una serie di esigenze anche economiche russe può rendere per i prodotti russi in particolare per le materie prime russe più facilmente raggiungibili i mercati europei da un lato ma soprattutto dell'Asia orientale che sono relativamente mal collegati in questo momento a buona parte della Russia questo può andare incontro alle sue esigenze d'altra parte il fatto che le iniziative cinesi si siano concentrate non tanto sul territorio russo ma proprio sul territorio dei paesi dell'Asia centrale e di altri paesi che non fanno più parte della federazione russa ma che la Russia considera come i suoi ex satelliti anche questo appunto non aiuta ad avere relazioni economiche distese quindi in sostanza che cosa possiamo dire dei rapporti economici tra i due in miglioramento sulla carta i volumi sono molto cresciuti anche se non vanno sovrastimati ma c'è questa forte asimmetria per la Russia la Cina in questo momento è molto importante è il primo partner come paese il secondo partner economico dopo l'Europa ma per la Cina la Russia è solo il decimo partner economico è una delle fonti di diversificazione di forniture energetiche è uno dei tanti mercati in cui la Cina è presente quindi questa asimmetria ovviamente si evolverà nel tempo ma in questo momento la posizione di forza sembra sicuramente essere quella cinese grazie grazie mille su questo tema sicuramente Antonella Scott giornalista del Sole 24 Ore ed esperta di Russia inviata a Mosca ci saprà anche dare un quadro più dettagliato quali sono questi accordi che vengono tanto declamati nella narrativa ufficiale sia russa che cinese c'è in realtà una sostanza dietro tante parole grazie sì è interessante andare a vedere un po' più nel dettaglio nel concreto i temi di cui abbiamo già parlato sul fronte economico i vari fronti di questo avvicinamento tra Russia e Cina che però come abbiamo detto annascondono tanti tanti come dire punti non chiari si potrebbe chiedere quanto può durare che cosa c'è davvero dietro questo riavvicinamento noi abbiamo parlato della politica cioè di un avvicinamento che è dettato ciascuno per le sue ragioni dall'opposizione da un momento di gelo diciamo con gli Stati Uniti e come questo si riflette sull'economia un'altra cosa importante da ricordare è la geografia che vede la Russia e la Cina in qualche modo come prigioniere per un motivo geografico sono due paesi giganteschi con un confine di 4.300 km il confine più lungo con un altro paese per la Cina e che quindi ha per loro da una parte le condanna diciamo a essere in contrapposizione a essere come nemici a doversi temere uno dell'altro ma nello stesso tempo anche nasconde delle opportunità per esempio la questione delle forniture energetiche che è così importante loro non hanno problemi di navigazione come vediamo proprio in questi giorni quello che sta succedendo nel golfo persico lo stretto di Ormus come è complicato per la Cina andare e così come per tutti gli altri paesi del mondo andare a rifornirsi dal Medio Oriente e dover passare attraverso una rotta di navigazione Cina e Russia non ne avrebbero bisogno però se noi andiamo appunto a vedere più da vicino questo confine è un confine che provate a pensare soltanto nel 2008 è stata la questione della definizione del confine cioè del fatto di c'erano delle divergenze su territoriali delle contese sono state definite soltanto nel 2008 dopo appunto come abbiamo ricordato gli scrontri la guerra del 1969 ed è un confine in cui immaginate soltanto in questi mesi viene completato il ponte un ponte che collegherà la provincia di Heilongjiang in Cina con Blagoveshinsk in Russia c'è soltanto un ponte ci sarà soltanto un ponte in 4300 chilometri di confine tra due paesi quindi come possiamo pensare che gli scambi siano facili se ancora abbiamo soltanto la possibilità di comunicare è un ponte di poco più di un chilometro quindi non stiamo parlando di grandezze però per il momento ci sono solo traghetti o un ponte mobile che li collega ci sono anche problemi climatici ma comunque questo ci fa capire come al di là appunto dell'avvicinamento di cui parliamo nella realtà le possibilità i numeri degli investimenti dell'interscambio sono molto inferiori rispetto a quello che potrebbero essere come potrebbe essere tra due alleati naturali due alleati davvero vicini un altro esempio potrebbe essere l'alta velocità si parla di un'alta velocità tra Mosca e Pechino chissà mai se avverrà c'è una linea di alta velocità che da Pechino porta in teoria voleva arrivare fino a Vladivostok ma arriva solo al confine cinese e poi lì si ferma la parte russa non è mai stata costruita sempre per questa comunque diffidenza di fondo della Russia come abbiamo visto che cerca comunque sempre di in qualche modo tenere le distanze non spalancare le porte perché ha paura ha paura di un'invasione dal punto di vista territoriale è stato detto la densità se non ricordo male dunque in Siberia in Siberia vivono scusate nell'estremo oriente russo che non corrisponde alla Siberia la parte proprio più orientale vivono 6 milioni di russi 6 milioni di abitanti sono soltanto gli abitanti di Arbin la capitale della provincia cinese dall'altra parte la densità di popolazione per i russi nell'estremo oriente russo è meno di una persona per chilometro quadrato dove i cinesi sono 88 da qui la paura che l'immigrazione se l'integrazione con la Cina con l'economia cinese la Siberia potrebbe portare solo bene perché ha un gran bisogno di sviluppo però c'è questa grande paura di un'invasione a volte si dice la Siberia rischia di diventare cinese un giorno pensate che il numero degli immigrati cinesi che stanno comunque andando soprattutto nel settore agricolo che adesso poi la Russia ha un gran bisogno di sviluppare il numero di quanti cinesi vivono in Siberia è tenuto nascosto mi ricordo che tanto tempo fa nel 2009 mi sembra un viaggio a Kabarovsk proprio nell'estremo oriente russo Kabarovsk attraverso il fiume l'amor tu puoi vedere la Cina è vicina non si riusciva ad avere un'idea di quanti fossero i cinesi che veramente che abitano lì si parla di mezzo milione ma non è una cifra che viene così che viene pubblicizzata un altro fronte su cui che ci fa capire bene questa diciamo appunto da una parte comunanza interesse a collaborare ma nello stesso tempo diffidenza è l'Artico l'Artico che davvero dà l'idea di come la Russia abbia bisogno della Cina la Russia che in questo momento è sul fronte energetico deve affrontare le sanzioni occidentali il suo progetto Yamal è una penisola nell'Artico in cui la Russia si sta giocando il suo futuro come produttore esportatore di gas liquido quello su cui avrà soprattutto dovrà affrontare la concorrenza americana ecco i cinesi sono stati quelli che in qualche modo hanno salvato il progetto hanno accettato delle banche cinesi di investire questi al momento sono due progetti si chiamano due progetti affidati alla russa Novatec che però ora a parte la francese Total ha soltanto compagnie cinesi che hanno acquisito quindi ecco la partecipazione cinese con capitali cinesi nello sviluppo dell'energia russa è importante anche se appunto sempre non quanto potrebbe essere se non ci fossero diciamo questi timori queste divergenze la Russia che sta puntando molto sullo sviluppo dell'Artico della regione Artica e quindi della via maritima settentrionale certamente non vedrà di buon occhio una Cina che sta cercando di essere sempre più presente nella regione Artica si definisce paese quasi Artico sta costruendo scusate rompighiaccio ed è sempre più presente io credo che questo non potrà andare avanti molto fino al momento in cui alla Russia questo cercherà comunque di ostacolarlo di mantenere quindi avere i capitali sì ma non cedere troppo controllo un'ultima cosa interessante sul fronte dei gasdotti anche qui un legame che non dovrebbe porre dei problemi perché appunto come dicevamo la Russia è un fornitore di energia la Cina ne ha bisogno pensate quando si è cominciato a studiare la possibilità di portare un gasdotto per rifornire di gas la Cina i gasdotti in Russia erano tutti rivolti verso l'Occidente perché l'Europa è sempre stato il mercato naturale per la Russia e hanno dovuto iniziare a costruirlo hanno passato decenni a negoziare perché i cinesi non volevano partecipare al finanziamento alla fine questo è stato l'investimento più pesante più oneroso per Gazprom 55 miliardi di dollari questo progetto di un gasdotto che investe solo sulla Cina perché andando verso l'Oriente a quel punto la Cina è l'unico mercato in questo momento per questo gasdotto che finirà appunto in Cina e che quindi in qualche modo li lega ma ancora non 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 tutte le possibilità che che potrebbero esserci non vengono comunque sfruttate fino in fondo un'ultima cosa se non sto un minuto per dirvi invece sul fronte dei finanziamenti appunto come abbiamo visto la Cina ha molti investe sta aumentando la sua presenza abbiamo parlato di Huawei anche nel settore agricolo si sta aumentando la sua presenza però ci sono non c'è un paragone tra quello che investe in Russia e quello che investe non so in paesi come il Brasile o come la Nigeria una cosa interessante comunque è che appunto nella recente visita di Xi Jinping in Russia uno degli accordi uno delle intese che sono state propagandate molto è cerchiamo di aumentare la quota proprio per prendere le distanze dal dollaro in particolare la Russia è molto attiva in questo momento per ridurre la dipendenza dal dollaro essendo sotto sanzioni vogliono valutare la possibilità di aumentare la quota di interscambio in valute in rubro in yuan rispetto al dollaro ma questo per la Russia è davvero anche questo un fronte in cui un conto sono le intenzioni poi la realtà di un paese che esporta soprattutto materie prime e le materie prime sono scambiate la valuta di riferimento e il dollaro quindi anche questa è una cosa molto difficile poi da realizzare volevo concludere con pensando condividendo con voi una domanda pensavo se in questo momento la situazione politica in questa fase li porta a avvicinarsi ma se improvvisamente come potrebbe succedere venissero meno le questioni degli attriti tra Cina e Stati Uniti tra Russia e Stati Uniti sarebbero così attenti ancora a cercarsi l'uno con l'altro forse un primo possibilità sarà vedere adesso al G20 di fine mese in Giappone per vedere quanto tempo poi lì ci saranno invece tutti e tre ci sarà Trump ci sarà Xi e ci sarà Putin quanto Putin quanto tempo dedicheranno invece a cercare comunque di riavvicinarsi agli Stati Uniti mi ricordo di un progetto tantissimi anni fa si parlava di un progetto costruire un tunnel sotto lo stretto di Bering cioè che collegasse l'Alaska alla punta all'ultima punta estrema della Russia magari ci sarà un giorno in cui si parlerà più di questi progetti grazie assolutamente era una domanda che avevo anch'io anche perché qui occorre di nuovo fare la differenza tra Stati Uniti e Europa e Unione Europea cioè gli Stati Uniti hanno costituito ormai da decenni il nemico numero uno prima per l'Unione Sovietica poi per la Russia mentre l'Europa ha sempre avuto una relazione molto più sfaccettata con la Russia e soprattutto ci sono molti paesi membri all'interno dell'Unione Europea che spingono per un riavvicinamento con la Russia quindi insomma quando si parla non solo dobbiamo differenziare tra Stati Uniti ed Unione Europea ma anche all'interno dell'Unione Europea dobbiamo fare dei distingui molto importanti e volevo vedere se c'erano domande dal pubblico sì c'è una sì buonasera il primo dibattito dove ho trovato essere d'accordo con tutti i speaker è una cosa quasi incredibile perché ho trovato che siete stati perfetti complementari uno ad altro non contrario ma complementarità perfetta quello che volevo dire e poi ti faccio domande da qualche miliardo di yuan può alzare la voce sì 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 praticamente volevo dire mi è piaciuto anche i commenti di Aldo Ferrari all'inizio che i cinesi erano sottomessi ma adesso se andiamo a Mosca e a Petroburgo al forum economico ci sono tre lingue negli aeroporti nelle stazioni russo cinese e inglese ci sono forum economico tradotto in tre lingue russo cinese e inglese quindi diciamo così adesso veramente c'è grande rispetto per la Cina della Russia sia ovviamente il paese economico ma anche quando parliamo di economia il professoressa Lucia assolutamente sono d'accordo con lei però ultimo anno questo anno per esempio interscambio russo cinese ha superato cento miliardi centotto miliardi e bilancio economico quasi paritario non come Cina e Stati Uniti leggero surplus russo perché ovviamente per energia ma veramente piccolo cinquanta quattro miliardi di differenza quindi diciamo quasi parità sul 5G vorrei dire solo una cosa al pubblico ovviamente quell'accordo con Huawei che è stato tra Putin tra due società cinese tra Huawei e MTS russo il primo operatore russo è stato comunque siglato un po' andato bene alla Russia e alla Cina perché il tram che ha fatto il freno al Huawei ha fatto tutto quel casino però è stato trattato molto prima è assolutamente da ricordare che altri due operatori russi altrettanto grandi hanno fatto accordi di 5G con altri operatori non cinesi ma altri questo nessuno non sa quindi diciamo così quindi non mettiamo tutto il peso ma parlo solo da economista che è la cosa poi sull'energia Antonella ovviamente ha detto tutto quasi direi perché è chiaro che Aldo Ferrari ha detto che da 2014 Europa ha fatto faccio domanda 30 secondi ha fatto un grande cazzata quindi è chiaro che se il gas russo ha 20% di meno non va in Europa va in Cina ovviamente più economico di quello per questo i russi preferivano l'Italia però se non vogliono sono tranquilli invece la domanda è secondo voi vabbè Cina è diventata la prima potenza economica o va indiscussa quando che secondo voi diciamo la firmerà la sua potenza anche geopolitica o tipo entrando come il membro permanente convetto eccetera all'ONU se ci sarà qualcosa sarà riformato ONU sarà qualcos'altro Sina russa eccetera perché Shosky avete trattato come un po' organizzazione così così quella di ha popolazione molto più grande e anche importanza economica con India Cina eccetera e quindi secondo me se diciamo non saranno riforme in questa organizzazione come ONU la cosa sarà semplicemente sciolta come G7 di fatto è stato sciolto superato a G20 tutto qua anche su questo opinione la domanda è come eventuali cambi all'interno dell'ONU o si si grazie ho trovato molto interessante le affermazioni che sono state fatte prima a livello più giuridico cioè quel fatto che c'è una certa similianza tra l'impostazione costituzionale russa europea però una divergenza dal punto di vista economico mentre a livello cinese c'è una similianza nello sviluppo economico ma una divergenza dal punto di vista politico allora se proiettiamo nel futuro i due paesi dove si andrà a finire perché mi sembra qualcuno sostiene che la Russia impedisce lo sviluppo di un'impenditoria privata per mantenere il potere in mano all'eigarchia e questo è favorito da un'economia dove tutto ruota intorno al petrolio al gas le materie prime per cui una volta che lo Stato controlla queste materie prime controlla tutto mentre la Cina è un paese che fondamentalmente va verso un libero mercato e già un libero mercato e per cui dovrebbe portare verso anche un'evoluzione politica simile a quella occidentale voi come vedete questi due sviluppi nel futuro spazio per un'ultima domanda per favore molto breve il signore in fondo il G7 credo che non sia stato sciolto una volta il G8 ce lo ricordiamo bene anche per le brutte vicende di Genova del 2001 poi da cinque anni fa il G8 si è ridotto al G7 stromettendo la Russia con tutte le conseguenze del caso allora chiedo non è venuto il momento di pensare anche in prospettiva a un G9 avrebbe senso avrebbe una sua fattibilità e soprattutto sarebbe utile grazie cercherò di essere rapidissima allora le domande girano intorno al concetto di Cina come potenza economica io stesso appunto ho detto che nel rapporto con la Russia la Cina sembra agire da un punto di vista di forza però ci sono alcune cose che credo sia importante ricordare la potenza economica cinese va vista con una certa cautela perché se noi guardiamo per esempio all'indicatore più banale il reddito pro capite la Cina è indietro rispetto alla Russia prendendo l'indicatore più banale evidentemente quindi la potenza economica cinese ovviamente viene dalla sua capacità esportatrice che è in diminuzione per un semplice fatto che la domanda interna cinese preme sempre di più evidentemente e quindi quanto questa prevalenza cinese sui mercati mondiali continuerà ma non nella misura che credo che abbiamo sperimentato negli ultimi 10 o 15 anni proprio per un maggiore riorientamento verso il mercato interno quindi secondo me ci vuole intanto un po' di cautela nel parlare della Cina come di una potenza economica più delicato credo che sia il discorso legato alla specifica tecnologia è vero che la partita la partita poker che veniva menzionata prima dal punto di vista dell'economia si gioca sulla preminenza tecnologica chi avrà in mano le tecnologie più avanzate questo sarà estremamente rilevante da questo punto di vista la Russia mi sembra abbastanza fuori gioco nonostante abbia alcune tecnologie militari ancora abbastanza di punta e così via ma nel complesso da questo punto di vista mi sembra abbastanza fuori gioco per quanto riguarda quindi il bilanciamento tra i poteri il ruolo dell'Unione Europea il G7 il G8 o quant'altro io credo che il concetto al di là della posizione di Russia e Cina di pensare a un G7 G8 G9 sia superato abbiamo già un G20 che ovviamente fa fatica a fare qualsiasi cosa perché in 20 non si riesce a decidere quasi nulla ma che credo renda impossibile fare una retromarcia perché chi mettiamo in un gruppo più ristretto l'India non accetterà mai di stare fuori ma l'India è un paese grande più o meno ce lo ricordiamo ma tanti altri giganti asiatici dalla Corea all'Indonesia l'America Latina l'Africa dove li mettiamo in un G sotto i 10 per cui credo che il vero problema che la stessa Russia e Cina si trovano ad affrontare ed è uno dei motivi per cui si sono avvicinati ma vediamo quanto durerà questo avvicinamento è che proprio abbiamo un'economia mondiale che è per fortuna io dico molto meno concentrata di quanto non fosse anche solo dieci anni fa e quindi in cui le alleanze sono indispensabili non c'è più nessuno dal punto di vista economico dal punto di vista militare e politico la situazione è diversa ma dal punto di vista economico non c'è più nessuno che può fare il monopolista o quasi monopolista su quasi nessun mercato e questo credo che sia tutto sommato un bene grazie dunque io vorrei rispondere brevemente sulla questione della tenuta dell'alleanza tra Russia e Cina e quindi la possibilità di vederle cambiare gli equilibri all'ONU appunto come dicevamo prima non penso che questa sia un'alleanza che dobbiamo dare per scontato nel tempo visto che già ora mostra davvero dei punti di debolezza per esempio tornando sempre sul fronte dell'energia per darvi un'idea di come in realtà i cinesi abbiano comunque molto più bisogno degli Stati Uniti per il loro sviluppo piuttosto che della Russia una cosa davvero indicativa è stata il fallimento del tentativo dei russi di vendere una quota della loro compagnia più importante petrolifera Rosneft alla compagnia energetica cinese era un accordo che sarebbe stato cruciale 9 miliardi di dollari per una quota del 14% di Rosneft che alla fine è saltato è saltato per una questione di corruzione ma dietro c'era in realtà il fatto che la Cina è vero che sta vivendo un momento difficile nei confronti degli Stati Uniti però probabilmente non era pronta a rischiare più di tanto a entrare nell'assetto azionario di una compagnia sotto sanzioni da parte degli Stati Uniti quindi mi sembra che sia molto appunto come dicevamo che i cinesi sono così abituati a vedere il futuro a fare programmi nel corso di millenni ecco sicuramente quella che stiamo vivendo è una fase storica di cui però davvero non abbiamo non sappiamo con certezza le dimensioni che così come è stato nel passato di alti e bassi tra Russia e Cina così anche questo avvicinamento non è probabilmente destinato a durare tantissimo grazie mille alle relatrici e grazie mille anche agli altri relatori che sono intervenuti prima e un ringraziamento sentito per ringrazio anche molto le vostre domande per aver partecipato al dibattito buona serata grazie mille 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.